Approfitta delle grandi offerte Antonio Favaglio, per una casa più adatta alle tue esigenze. Tanti i prodotti per te. Stufa Pellet 7 kW, by Nordica, adatta a 90 metri quadri, ventilazione forzata, termostato interno, due anni di garanzia, made in Italy, con soli 12 rate da 77,19 euro. Pellet certificato italiano, combustibile solido, costituito da abete e faggio, privo di corteccia e qualsiasi additivo o inquinante. Brucciolo, made in Italy, 4,50 euro, il pacco da 15 metri. Rivestimento in pasta bianca byroca, serie maiolica, 11x25, prima scelta. Colore bianco, blu steel, acqua, made in Italy, 14,99 euro al metro pacco. Miscelatore in lavabo e bidet, ideal standard, finitura promata, flessibile in acciaio inox, anticalcane. Due anni di garanzia, due pezzi, 60 euro. Composizione in nobilitato by Savini, da 75 cm. Modello clara, colore bianco, completo di specchiera con luce alogena. Calvè a condensazione unica, modello con M, 24 kW, ideale a 120 m2, detraibile al 65%, due anni di garanzia, 914 euro. Pavimento in rivestimento cane, 15x90 cm, prima scelta. Serie Tone Wood, colore bianco, argento e beige, made in Italy, 13,99 euro al metro pacco. Vasco idromassaggio Cristina 3S, con 6 bocchette ed avviamento digitale, due anni di garanzia, 649 euro. Pavimento in rivestimento serie Grasia, by Roca, 31x61 cm, prima scelta. Colori bianco e multicolor, made in Italy, 16,99 euro al metro pacco. Set sanitario Roca, in ceramica, serie set 1, installazione a pavimento, 4 pezzi. Vaso, bidet, colonna e lavaggio, tutto a soli 108 euro. Quest'anno regalati gratis la carta fedeltà valore e scopri tutti i vantaggi. Consulta il catalogo premi sul sito antoniofalanga.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.